Erano le 8.30 del 29 gennaio del 1979 e la magistrato Emilio Alessandrini, prima di recarsi al lavoro, lasciò il figlio Marco, oggi sindaco di Pescara, all'epoca di appena 9 anni, alla scuola elementare di Via Colletta a Milano. Viaggiava in auto da solo, senza scorta. All'incrocio tra Via Le Umbre e Via Muratori venne raggiunto da un commando di prima linea mentre era fermata dal semaforo. Per lui non ci fu scampo. 40 anni sono passati da quella terribile mattina. Molto si è detto, atti giudiziari, libri e anche un paio di film a condannare a morte Emilio Alessandrini, magistrato all'epoca di appena 36 anni, partito da Penne e sua cittanatia per svolgere il suo prezioso lavoro alla Procura della Repubblica di Milano, le sue intuizioni e i suoi approfondimenti sulle connivenze tra il terrorismo di sinistra e certi apparati di Stato legati ai servizi segreti. Alcune sue foto furono trovate nel covo di Corrado Allunni. Da lì le indagini si diressero senza citazione verso il gruppo di prima linea, guidato da Sergio Seggi e Marco Donaccatten, furono loro gli assassini di Emilio Alessandrini, leale servitore dello Stato, padre e marito premuroso, persona per bene. Diversi gli eventi nella giornata commemorativa, le iniziative curate dalla Presidenza del Consiglio Comunale con la collaborazione dell'Associazione Emilio Alessandrini e la sinergia con l'Associazione Nazionale Magistrati, sezione distrettuale dell'Aquila. Intanto la consueta e toccante commemorazione al monumento dedicato alle vittime del terrorismo in Piazza Unione a Pescara con autorità, cittadini e studenti. Eventi come questi, eventi di ricordo come questa giornata, servono a mantenere viva la memoria, soprattutto nelle nuove generazioni. Sono presenti molte scuole, molti ragazzi, affinché non vengano dimenticati quegli anni, gli anni del terrorismo in Italia e soprattutto la vittoria della democrazia e della libertà. Compagno di scuola e poi collaboratore come commissario di Polizia Ennio di Francesco ha sempre tenuto accesa la fiamma del ricordo di questa immane tragedia. Dopo 40 anni noi realizziamo un abbraccio corale tra la cittadinanza ma soprattutto tra i giovani perché lì ci saranno i ragazzi delle scuole e quindi vuole essere un passaggio di testimone, tu hai usato un termine giusto, del martirio, dell'esempio di Emilio, ai più giovani. Di tutte le interviste rilasciate in questi anni prevalentemente in veste di sindaco, quella che appuntualmente gli viene chiesta il 29 gennaio è senza dubbio la più delicata e dolorosa. Ma Marco Alessandrini non perde il suo plomb. Lui che questa ricorrenza non ha mai voluto concentrarla sulla sua persona ma sull'alto senso morale civile nato da quella terribile pagina degli anni di piombo come riscatto e consapevolezza, pensando ad Emilio Alessandrini più che come padre, come grande e coraggioso riformista, proprio come era un'altra vittima del terrorismo rosso. Marco Biagi. Oggi ogni tanto si affacciano teorie nuove, anche un po' complottiste, circa quegli anni. Io penso che la lettura dello storico sia utile per inquadrare il contesto ma poi i processi e le responsabilità penali sono un'altra cosa e lì ci vogliono le prove nei tribunali. Di Emilio Alessandrini si tornerà a parlare anche venerdì 1 febbraio nell'aula Alessandrini del Tribunale di Pescara in occasione del convegno dal titolo Diritti infranti, strategie del terrore e le risposte dello Stato a cura dell'Associazione Nazionale Magistrati e il giorno dopo appenne in un altro convegno nella città che gli ha dato i Natali.